Buongiorno a uno sguardo ai titoli di Piazza Buongiorno a uno sguardo ai titoli di Piazza Buongiorno a uno sguardo ai titoli di Piazza Buon pomeriggio, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione in diretta sul telegiornale di Videolina alle 13 e un minuto. Abbiamo pensato di iniziare in tanti modi questo telegiornale a un anno esatto. Buongiorno a uno sguardo ai titoli di Piazza